buonasera allora l'inciuccio è un termine napoletano che significa accordo sotto banco di nascosto tra due persone che non vogliono farsi vedere e non vogliono fare sapere che si stanno mettendo d'accordo su qualcosa che non possono dire quindi su qualcosa di inconfessabile quindi è una parola sbagliata per rendere l'idea di tutti gli inciuci di cui abbiamo parlato in questi anni della politica italiana perché gli inciuci di questi anni della politica italiana sono avvenuti a cielo aperto sono avvenuti alla luce del sole sono avvenuti su cose inconfessabili ma confessate nel senso che le conosciamo tutti eppure è come se fossero avvenuti di nascosto ne abbiamo visti per vent'anni ininterrottamente per fermarci soltanto alla cosiddetta seconda repubblica e per vent'anni milioni di persone hanno fatto finta di non vederli e si sono abituati all'idea che non esistevano o meglio li hanno considerati dei momentanei provvisori errori commessi dal centro-sinistra per inesperienza per ingenuità in perfetta buona fede e soprattutto per l'ultima volta non succederà mai più ridateci fiducia non succederà mai più abbiamo peccato ma adesso abbiamo capito la lezione eravamo giovani eravamo inesperti adesso vedrete che non ci ricaschiamo e questa pia illusione che ha fratellato milioni di italiani è ancora dura tant'è che oggi circola un'altra leggenda una di quelle leggende metropolitane che si alimentano anche sulla rete secondo me ancora più incredibile di quella sugli alligatori nascosti nelle fogne di Roma ancora più incredibile di quella sulle scie chimiche che la CIA ci manda per contaminarci ancora più incredibile di quelle sul fatto che il signoraggio bancario sarebbe all'origine unica praticamente del nostro debito pubblico la leggenda metropolitana più incredibile è proprio questa che il giorno dopo le elezioni bastava un ok di Beppe Grillo e si sarebbe fatto il governo del cambiamento fra il Partito Democratico, Sel, Divendola e il Movimento 5 Stelle per mettere definitivamente fuori gioco Berlusconi con il brindisi finale di Napolitano ecco questa è una leggenda metropolitana che purtroppo sta prendendo piede anche grazie alla cialtroneria del comportamento che hanno avuto i 5 Stelle durante le consultazioni perché? Perché sono riusciti nell'incredibile impresa di non andare a vedere il blef di chi stava proponendo una cosa che mai e poi mai sarebbe potuta nascere ma hanno invece accreditato questa leggenda assumendosi alla fine la responsabilità di un governissimo che era deciso esattamente fin dalla prima sera dopo le elezioni che nessuno ha vinto e che tutti hanno perso tranne loro per capire che l'inciuccio non è un inciucio ma è un accordo ferreo tra il centro-destra e il centro-sinistra o meglio fra i ceti dirigenti del centro-destra e del centro-sinistra e coloro che stanno dietro con i loro soldi, con il loro potere non sempre occulto, molto spesso palese bisogna vedere di ripercorrere la storia di questi vent'anni io l'altra sera nella penultima mi pare puntata di servizio pubblico c'era Veltroni che presentava il suo libro i libri di Veltroni si presentano in fretta perché sono poche decine di pagine scritte in braille in corpo 18, in corpo 20 come i libri dei bambini da colorare il libro riguarda naturalmente tutto quello che si sarebbe potuto fare in questi vent'anni e che lui naturalmente ci racconta adesso che non conta più una mazza mentre per vent'anni ha contato molto e tutte le cose che si sarebbero potute fare non gli sono venute in mente in quel momento gli sono venute in mente adesso che non le può più fare è venuto da noi a presentare questo libro in una puntata dedicata alla trattativa fra lo Stato e la mafia che lui ha scoperto recentemente è una vocazione molto adulta Veltroni e quindi improvvisamente ha scoperto la mafia ha scoperto che pare che ci siano addirittura stati dei rapporti con lo Stato e lo racconta così con questo stupore anche negli occhi fanciullesco, ricorda quei bambini che dopo tanti anni vengono portati finalmente al mare e quando vedono il mare o come i bambini africani che vedono per la prima volta la neve hanno quelle espressioni stupefatte Veltroni ha la stessa espressione stupefatta quando parla di trattativa fra lo Stato e la mafia ebbene dopo averci raccontato che lui di recente appunto ha saputo che forse c'è stata una trattativa e che bisogna andare a fondo si sarebbe dovuto andare a fondo a pensarci anche in questi vent'anni visto che è avvenuta esattamente vent'anni fa anzi vent'uno alla fine Giulia Innocenzi gli ha domandato dell'ineleggibilità di Berlusconi e gli ha detto beh vi siete messi in un bel guaio perché se voterete per Berlusconi ineleggibile ipotetica del terzo tipo farete cadere il governo e al contempo ammetterete di avere sbagliato per vent'anni se invece voterete per Berlusconi elegibile salverete il governo ma perderete ulteriori voti oltre ai tanti che avete già perso in tutti questi anni e quindi cosa ne pensa? e lui ha risposto io sono convinto che Berlusconi vada sconfitto nelle urne e lui è un esperto infatti non l'ha mai sconfitto nelle urne l'unico che ha sconfitto Berlusconi nelle urne e Prodi infatti è l'unico che hanno fatto fuori due volte da premier e una volta da possibile presidente della Repubblica proprio perché stonava uno che vince le elezioni in mezzo a gente che le ha sempre perse tutte e quindi ha detto io sono per sconfiggerlo nelle urne Berlusconi e non con questi mezzucci dell'ineleggibilità eccetera anche perché ha detto vent'anni di anti-Berlusconismo del centro-sinistra hanno rafforzato, hanno nutrito Berlusconi io gli ho detto ma quando mai il centro-sinistra è stato anti-Berlusconiano? e lui sempre con quello stupore fanciullesco che gli si dipinge negli occhi e lo stesso stupore che aveva Calderoli o Gasparri quando divennero ministri quell'occhio pallato che rimane poi fisso come quello delle galline ha detto beh questi vent'anni sono gli ho detto citami una legge di Berlusconi che voi gli avete cancellato o un atto ostile che in vent'anni voi avete fatto contro di lui lui ci ha pensato un attimo ha detto la grande manifestazione della CGL di Cofferati sull'articolo 18 che ha fatto cadere il primo governo Berlusconi nel 94 a quel punto io ho fatto l'espressione fanciullesca del bambino che ha visto per la prima volta il mare e gli ho detto ma nel 94 il governo Berlusconi è caduto perché Bossi gli ha tolto la fiducia in dissenso sulla riforma delle pensioni ce lo ricordiamo tutti tranne te eppure l'unico presente nello studio che stava in Parlamento già nel 94 già anche nell'84 forse anche nel 74 era lui e lui ha detto perché tu non c'eri alla grande manifestazione della CGL contro l'articolo 18 dici così potevi venire e così te lo ricorderesti io gli ho detto ma a parte che io faccio il giornalista e non partecipo alle manifestazioni di partito però ti faccio notare che io nel 94 non ero presente alla manifestazione della CGL sull'articolo 18 insieme al centro-sinistra perché la manifestazione contro l'articolo 18 nel 94 non è mai esistita non si è mai tenuta si è tenuta nel 2002 durante il secondo governo Berlusconi che era lì dal 2001 e ha proseguito serenamente la legislatura fino al termine è l'unico governo che è arrivato alla fine della legislatura voi non avete mai fatto cadere nessun governo Berlusconi il primo governo Berlusconi l'ha fatto cadere Bossi il secondo non l'ha fatto cadere nessuno il terzo l'ha fatto cadere Fini voi non centrate con le cadute dei governi Berlusconi anzi fosse di peso da voi sarebbe durato cinque anni anche il primo e sarebbe durato cinque anni anche il terzo a quel punto lui insisteva chiamava a testimone Santoro già il fatto che citasse una manifestazione fatta da altri cioè dalla CGL non ricordandosene nessuna fatta dal suo partito era indicativa ma in più ne ricordava una fatta da altri che non è mai esistita nel 94 il governo Berlusconi cade per mano di Bossi Berlusconi sostiene che è caduto per mano della procura di Milano che gli mandò l'invito a comparire mentre stava presidendo un vertice a Napoli ma che fosse caduto per una grande manifestazione della CGL sull'articolo 18 non lo ha mai sostenuto nessuno fino a quando è arrivato Veltroni a servizio pubblico questo ve la dice lunga sul fatto che loro per vent'anni non hanno mai fatto un solo atto ostile contro Berlusconi allora a questo punto non per seminare pessimismo come diceva Paolo Onori ma per cercare finalmente di capire la politica italiana e possibilmente evitare di farsi prendere per il culo da gente che da vent'anni ci prende regolarmente quotidianamente per il culo è il caso di capire che cos'è questa roba che chiamiamo inciucio da che cosa dipende o da che cosa potrebbe dipendere secondo me naturalmente che un po' l'ho studiato insieme a Peter Gomez a Gianni Barbacetto ci ho dedicato anche qualche libro per capire che cosa potrebbe succedere domani e soprattutto per capire che cosa possiamo fare noi per evitare che questo eterno inciucio chiamiamolo così anche se è improprio si perpetui nei prossimi anni l'inciucio intanto non è una questione di comunanza di idee perché di idee nella politica italiana se ne vedono poche da parecchio tempo è una questione di affari di soldi di mafie e di ricatti Gerardo Colombo nel 1997 all'epoca di un altro inciucio l'abicamerale di D'Alema diede un'intervista a Peppe D'Avanzos che all'epoca scriveva sul Corriere della Sera e disse mani pulite l'inchiesta sullo scandalo di Tangentopoli sta finendo nel peggiore dei modi perché con le leggi che hanno fatto per mandare in bacca i processi un sacco di gente la farà franca perché hanno accorciato la prescrizione perché hanno complicato le regole dei processi allungando nei tempi o perché hanno cancellato dei reati ma soprattutto finirà malissimo perché quel sistema di corruzione che regnava nella prima repubblica trasversalmente epicentro Milano in radiazione in tutta Italia dove rubavano tutti non perché tutti i politici singolarmente rubassero ma perché tutti i partiti incassavano soldi di tangenti avendo ciascuno l'addetto alle tangenti quel sistema lì è emerso soltanto per quanto riguarda la punta dell'iceberg sotto il pelo dell'acqua è rimasto la gran parte dell'iceberg che è a conoscenza di tutti i protagonisti di quel sistema che hanno detto il minimo indispensabile e cioè hanno ammesso quello che i magistrati avevano scoperto e che gli imprenditori avevano confessato ma dato che sono tutti molto furbi e tengono molto alla loro carriera e al loro futuro quando uno viene beccato per la corruzione non è che si cala i pantaloni e racconta tutto quello che sa racconta il minimo indispensabile per essere credibile e la polizia giudiziaria e i magistrati scoprono una piccola parte di un fenomeno enorme diffuso e sommerso quelli che sono a conoscenza di tutto il sistema di tutti i nomi di quelli che pagavano e di quelli che prendevano resteranno per tutta la loro vita depositari di questi segreti e li useranno per ricattarsi a vicenda diventando immortali perché se io so qualcosa su di te e tu sai qualcosa su di me io non dico niente su di te tu non dici niente su di me ma i nostri ricatti incrociati fanno in modo che tu non mi attaccherai mai io non ti attaccherò mai e così sia io sia te camperemo in eterno di politica questo è il sistema che Colombo voleva far emergere con quell'intervista quando propose per evitare un futuro di ricatti in politica una norma molto semplice diamo una causa di impunibilità di non perseguibilità penale cioè la fa franca chi viene a raccontarci per primo tutti gli episodi di corruzione che conosce se ce li è già venuti nel frattempo a raccontare un altro non ci interessa e quello lo processiamo ma se uno ci racconta una cosa che non sappiamo noi per quella cosa non lo puniamo e così per paura di essere scoperti o di essere denunciati da un altro che arriva primo per prendere il premio ci sarebbe stata la corsa nelle procure per raccontare tutto e avremmo avuto se non proprio il 100% quasi il 100% del quadro complessivo e tutte quelle notizie non più segrete a disposizione dei ricattatori incrociati sarebbero state pubbliche e quindi non avrebbero più potuto essere usate per i ricatti perché perché io ti posso ricattare se so qualcosa di te che non si è ancora saputa ma se io so una cosa di te che sanno tutti non ti posso ricattare quell'intervista naturalmente provocò una reazione furibonda della classe politica i presidenti della Camera e del Senato Violante Mancino fecero un comunicato congiunto per deplorare l'intervista di Gerardo Colombo e il ministro della giustizia professor Flick avviò un'azione disciplinare contro Gerardo Colombo il quale qualche giorno dopo incrociò Cesare Previti che era indagato nella procura di Milano e Cesare Previti disse adottò lei c'ha ragione qua è tutto un ricatto e lui ne sapeva qualcosa parlava da intenditore non aver dato retta a Gerardo Colombo quando fece questa proposta e questo lanciò questo allarme ha naturalmente prodotto il risultato che era prevedibile e cioè che ancora oggi ci sono personaggi che stanno in Parlamento nelle istituzioni nelle vertici delle forze dell'ordine grazie esclusivamente alle cose segrete che sanno e che non dicono salvando le chiappe a tanti altri che a loro volta sono a conoscenza di segreti che non dicono per salvare le chiappe a tantri altri che sono a conoscenza di segreti che non dicono e questo spiega per quale motivo in Italia non esiste ricambio della classe dirigente e per quale ragione siamo l'unico paese al mondo dove se uno non ha almeno 75 anni non può diventare nemmeno consigliere comunale detto in generale cioè la ragione della gerontocrazia e della mancanza di ricambio delle classi dirigenti ha un solo principale se non unico motivo i ricatti incrociati che ciascuno è in grado di mettere in campo Giuliano Ferrara in un famoso confronto con Pier Camillo Davigo pubblicato da Micromega disse in Italia non può far politica chi non è ricattabile Davigo lo guardò e disse forse volevi dire che non deve fare politica chi è ricattabile e lui no no non deve e non può fare politica chi non è ricattabile perché noi dobbiamo sapere esattamente quanto è lungo il guinzaglio di ciascun politico noi gli dobbiamo tirare il guinzaglio non appena si permette delle cose che non deve permettersi e quindi li dobbiamo poter ricattare tutti dobbiamo sapere vita, morte, miracoli e ciascuno deve avere almeno un altarino nascosto altrimenti non può fare politica forse vi sarà sfuggito ma in questi anni i pochissimi politici che sono venuti meno alla regola dell'inciucio sono stati spazzati via dalla vita politica Prodi non ha mai trattato con Berlusconi e nessuno ha mai potuto dirgli o tratti con Berlusconi o ti ricattiamo per questo o quell'altra porcata che hai fatto forse perché non aveva fatto porcate a sufficienza e infatti Prodi l'hanno mandato a casa Di Pietro l'hanno hanno cercato di cacciarlo dalla politica in ogni modo e alla fine ci sono riusciti Ingroia appena arrivato l'hanno subito fatto in modo che non entrasse in Parlamento negandogli l'apparentamento col centro-sinistra perché dove potrebbe arrivare un leader politico senza essere ricattabile Cofferati che aveva ricevuto da Nanni Moretti il testimone di quei grandi movimenti che non nel 94 ma nel 2002 CGL Movimento della Pace Girotondi Micromega eccetera eccetera erano scesi in piazza mentre il centro-sinistra in Parlamento balbettava e inciuciava anche Cofferati l'hanno preso e l'hanno mandato a Bologna a fare l'unico mestiere che non era capace di fare cioè il sindaco e se lo sono levato dai coglioni la fine che fanno quelli che non stanno alle regole del gioco dell'inciucio è segnata persino Gianfranco Fini a un certo punto ha cercato di divincolarsi da quelle regole gli hanno subito tirato fuori il dossier era una caccola era la casa di Monte Carlo ma se voi lo notate tutti quelli che hanno sempre servito fedelmente Berlusconi da destra e da sinistra in Parlamento ci sono tornati persino Razzi e Scilipoti ma di Pietro in Parlamento c'è più in Groia non ci ha manco potuto mettere piede Fini è stato spazzato via non per 18 anni di sudditanza a Berlusconi ma per due anni di ostilità a Berlusconi cioè per i loro meriti sono stati cacciati dal Parlamento non per i loro demeriti Cofferati sta al Parlamento europeo allora bisogna capire che cos'è questo inciucio che è un sistema di cogestione del potere fra destra e sinistra che dura da vent'anni e nel quale nessun intruso nessun estraneo nessun invasore nessun usurpatore può entrare perché è scontato che le istituzioni sono cosa loro quando è che si spaventano quando qualcuno di loro rischia il posto perché arrivano forze nuove che portano via poltrone lo shock delle ultime elezioni col 25% di Grillo non è perché è Grillo ma è perché quel 25% prima andava ai soliti noti che sono abituati a convivere da vent'anni quando qualcuno pensa che Berlusconi ha perso qualche elezione e che il centro-sinistra ha perso diverse elezioni non ha capito niente loro non perdono mai né quando ottengono la minoranza né quando ottengono la maggioranza né vincono né perdono vincono sempre tutti perché sono rimasti sempre tutti ai loro posti per vent'anni alcuni per quaranta perché c'erano già prima sono gli elettori del centro-sinistra che perdono le elezioni quando i loro partiti non ottengono la maggioranza ma i leader del centro-sinistra non hanno mai perso le elezioni nemmeno quando le hanno perse cioè quasi sempre perché perché in Italia chi perde le elezioni non va a casa sono gli elettori che soffrono nel vedere Berlusconi per cinque anni al governo i dirigenti del centro-sinistra non soffrono affatto nel vedere Berlusconi per cinque anni al governo infatti stanno benissimo anzi forse stanno addirittura meglio perché perché non hanno la responsabilità di governare cosa che di solito non sono capaci a fare siamo noi che perdiamo quando vince Berlusconi ma siamo noi che perdiamo anche quando vince il centro-sinistra perché regolarmente quello che noi ci aspettiamo che venga fatto non viene fatto eleggi Prodi tac l'abbiamo mandato in Europa mandaci una cartolina diceva Corrado Guzzanti è venuto fuori D'Alema che non l'aveva eletto nessuno è venuto fuori Giuliano Amato che non l'aveva eletto nessuno è venuto fuori a un certo punto Monti chi lo sapeva che quando andava a votare avrebbe dato il voto a Monti per un governo destra-sinistra chi lo sapeva che sarebbe venuto Letta presidente del consiglio al governo con Berlusconi chi lo sapeva che Napolitano sarebbe stato rieletto da una maggioranza centro-destra e centro-sinistra siamo noi che perdiamo sempre le elezioni loro le hanno sempre vinte le perdono soltanto quando perdono il posto cosa che ha cominciato ad accadere alle ultime elezioni in piccola quota ma che prima non era mai accaduto non mi convinceranno a restare ora ci vuole coraggio di fare delle scelte di guardare avanti sarebbe sbagliato fare marcia indietro restare sarebbe una non soluzione tutto quello che avevo da dare o dato non attribuitemi scelte salvifiche sono contrarie a soluzioni pasticciate all'estero la definirebbero una soluzione all'italiana tornare indietro sarebbe ai limiti del ridicolo a 88 anni gli straordinari non sono ammessi sto per concludere il mio mandato l'ho già detto tante volte non credo che sarebbe onesto dire stati tranquilli posso fare il capo dello stato fino a 95 anni sia perché sono convinto che i padri costituenti concepirono il ruolo del presidente della repubblica sulla misura dei sette anni infatti non è un caso che nessun presidente della repubblica abbia fatto un secondo mandato sia perché ci sono fattori di età e limitazioni dal punto di vista funzionale crescenti caro direttore le scrivo per sgomberare spero definitivamente il campo da ogni ipotesi di napolitano bis non è un problema solo di indisponibilità personale facilmente intuibile da me ribadita più volte pubblicamente la mia è soprattutto una ferma e insuperabile contrarietà che deriva dal profondo convincimento istituzionale che il mandato già di lunga durata di presidente della repubblica proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale non si presti a un rinnovo comunque motivato né tantomeno a una qualche anomala proroga questo è quello che noi sapevamo dalle parole di Giorgio Napolitano fino al giorno in cui ce lo siamo ritrovato per altri sette anni cioè fino a 95 chi è che ha perso le elezioni chi è che le ha vinte noi le abbiamo perse noi le abbiamo perse tant'è che ogni tanto se uno fa mente locale dice dunque chi c'è al governo centrosinistra e centrodestra ah quindi dobbiamo ancora votare cioè no abbiamo già votato come se non fosse avvenuto ricordate i commenti del dopo elezioni del PD e del PDL abbiamo pagato l'esperienza del governo Monti gli italiani hanno bocciato il governo centrodestra centrosinistra centro del governo Monti esperienza da non ripetere ne faremo tesoro PDL persi 6 milioni e mezzo di voti PD persi 3 milioni e mezzo di voti risultato 10 milioni di voti persi risultato stessa identica maggioranza che ha sostenuto il governo Monti uguale identica abbiamo votato o non abbiamo votato teoricamente sì in pratica potevamo farne a meno si risparmiavano anche un sacco di soldi oltre alla proroga napolitano davamo anche la proroga a Monti questo per inquadrare è sempre stato così l'idea che arriva Grillo dice ok Pierluigi e nasce il governo del cambiamento è una totale illusione denota la totale mancanza di memoria di quello che è successo in questi vent'anni denota una credulità popolare che è imbarazzante sono vent'anni che i berlusconiani e il centro-sinistra si fronteggiano gomito a gomito nei consigli comunali provinciali regionali la gran parte dei provvedimenti del Parlamento viene approvata dal centro-destra e dal centro-sinistra le cose importanti il TAV gli F-35 le missioni militari i voti sulle immunità reciproche le questioni di soldi gli aiuti alle banche il non far pagare le tasse alla Chiesa sono tutte decisioni bipartisan che governi il centro-destra che governi il centro-sinistra le leggi contro la giustizia sono avvenute quasi tutte sotto il governo di centro-sinistra dal 96 al 2001 le leggi che ricalcano a fotocopia il papello di Totò Riina abolizione dell'ergastolo abolizione dei pentiti chiusura delle supercarceri di Pianose e Asinara abolizione di tante misure antimafia sono avvenute governante il centro-sinistra con i voti del centro-destra sono vent'anni che cogestiscono il paese le banche la RAI il denaro pubblico si aumentano di anno in anno si sono aumentati di anno in anno i finanziamenti elettorali chiamandoli rimborsi dopo che li avevamo aboliti con un referendum hanno fatto tutto insieme poi in campagna elettorale riscoprivano improvvisamente la loro diversità perché ma perché altrimenti non va a votare nessuno se non fa il teatrino dei pupi almeno in campagna elettorale dove uno tira fuori il conflitto di interessi e l'altro tira fuori le cooperative rosse e fanno un po' di bagarre e un po' di scaramucce a favore di telecamera ma chi è che ci va a votare dopodiché prendono i voti chiunque li abbia presi e ricominciano esattamente allo stesso modo ogni tanto gli scappa detto qualcosa perché non sono nemmeno troppo intelligenti ogni tanto stufo di sentirsi accusare di aver instaurato un regime rosso e di volere l'esproprio proletario delle reti televisive di Berlusconi Violante si alza il Parlamento e dice adesso basta non abbiamo fatto la legge sul conflitto di interessi non abbiamo fatto l'antitrust non abbiamo dato le frequenze a Europa 7 lasciandole a rete 4 abbiamo 25 volte moltiplicato il fatturato di Mediaset e ci accusate di regime ma vi abbiamo portato l'acqua con le orecchie mandateci il cestino a Natale diceva sempre Corrado Guzzani padrone in grato con tutti i favori che ti abbiamo fatto ci accusi pure di regime ogni tanto sbottano perché perché gli scappa è interessante studiarli questi signori perché si annusano si abbracciano cogestiscono cogovernano si spartiscono gli affari si ricattano stanno nei consigli d'amministrazione delle banche delle municipalizzate degli acquedotti delle aziende pubbliche di fin meccanica il Monte dei Paschi è patrimonio del PD e prima dei partiti che l'hanno preceduto ma c'è pure Verdini dentro e Penati secondo l'accusa ha cominciato a prendere le tangenti sulle aree Falc nel 93 e da chi le prendeva? Tra l'altro da un imprenditore che si chiama Pasini che era il capogruppo del centrodestra berlusconiano ma come fa uno che prende tangenti per vent'anni dal capogruppo del partito avversario e infatti per vent'anni non ha parlato né l'uno né l'altro a essere libero e questo è diventato il segretario il capo della segreteria particolare di Bersani segretario nazionale del PD ricattabilissimo da quello che secondo l'accusa gli dava le tangenti perché il capo dell'altro schieramento Tarantini Giampi Tarantini quello che portava le mignotte a Berlusconi nei giorni pari portava le mignotte a Berlusconi nei giorni di Ispa le portava al vicepresidente della giunta pugliese giunta vendola che si chiama Frisullo messo lì da D'Alema erano le stesse mignotte che nei giorni pari andavano a Palazzo Grazione nei giorni dispari andavano dal vicepresidente della giunta vendola ma secondo voi ma sono liberi i politici che ricevono le stesse mignotte che il giorno prima sono state da Berlusconi oppure sono in pugno al pappone non al pappone sono in pugno al pappone di al pappone allora così funziona così funziona hanno tutti un guinzaglio corto così quelli che sono liberi perché non sono ricattabili ci sono in Parlamento il Parlamento è pieno anche di brave persone anche del PD anche del PDL anche di SEL anche persino dei casini qualcuno c'è ma non fanno carriera perché fanno carriera soltanto quelli ricattabili ma vi siete mai domandati perché certi cerebrolesi che voi vedete in televisione dicono ma come può quello lì essere ministro ma è un decerebrato ma come fa quello lì essere presidente di commissione ma è un microcefalo ma come fa quell'altro a essere presidente del senato ma è un demente ma come fa quello lì che ride sempre a essere una alta carica dello Stato ma è uno che non farebbe nemmeno le pulizie al Parlamento di un altro paese domandatevelo il perché ci sono tante persone molto più intelligenti di loro che non hanno mai fatto un millimetro di carriera perché non sono ricattabili e quindi non vengono invitati in televisione e quindi non hanno speranze nella selezione televisiva delle classi dirigenti e quindi stanno al palo e alla prima occasione vengono espulsi sono vent'anni che noi assistiamo a queste cose ed è come se non fossero mai accadute ma scusate nel 94 governo Berlusconi dura sette mesi poi Bossi e non Beltroni lo fa cadere la Corte Costituzionale stabilisce che Mediaset deve dimagrire tre reti sono troppe deve passare a due le sentenze della Corte Costituzionale si eseguono punto sono vent'anni l'anno prossimo compierà vent'anni quella sentenza che quella sentenza non viene eseguita e in vent'anni quanti governi sono passati di quanti colori quante maggioranze diverse abbiamo avuto se fosse vero che esiste veramente un centro-destra e un centro-sinistra appena il centro-sinistra nel 96 va al governo prende la sentenza della Corte Costituzionale non deve nemmeno fare uno sforzo di dire lo facciamo perché siamo cattivi o anti-Berlusconi l'ha detto la Corte Costituzionale dobbiamo fare una legge e invece già nel 95 Violante ci dirà poi nel 2002 era stata data garanzia all'onorevole Letta all'onorevole Berlusconi che non gli sarebbero stati toccati le televisioni cioè appena la Corte Costituzionale fa una sentenza vincolante si precipitano Violante D'Alema non so chi fossero D'Aletta e Berlusconi a dire state tranquilli noi con le sentenze della Corte Costituzionale ci sciacquiamo i coglioni noi ce ne sbattiamo allegramente delle sentenze della Corte state tranquilli non ve le tocchiamo e non gliele hanno mai toccate perché le promesse che fanno a Berlusconi a differenza delle promesse che fanno a noi quelle le rispettano sono di parola perché perché altrimenti lui li prende li chiama lì e gli tira fuori un dossier a caso e li rovina come è avvenuto in questi anni a chiunque abbia cercato di mettersi di traverso nel 95 fanno il governo Dini Berlusconi sbraita il governo del ribaltone vergogna appoggiato da centrosinistra e Lega Berlusconi non lo appoggia a chi fanno scegliere il ministro della giustizia e il ministro delle poste e telecomunicazioni che sono gli unici due ministri che gli interessano a Berlusconi che non c'è nel governo Mancuso che fa la guerra al pool di Milano e di Palermo e l'avvocato di Sindona l'avvocato di Sindona diventa ministro delle poste e telecomunicazioni poi arriva il governo Prodi chi sceglie il ministro delle poste e telecomunicazioni Berlusconi chi è? Maccanico noto massone recentemente scomparso che prende la sentenza della Corte Costituzionale sulle televisioni e se la impapocchia a modo suo stabilisce che si stabilirà quel criterio antitrust quando ci sarà un congruo sviluppo delle parabole del satellitare che cos'è il congruo sviluppo? nella legge non c'è scritto basta scrivere congruo sviluppo per dire mai il congruo sviluppo è come l'infinito non è quantificabile e così danno proroghe su proroghe su proroghe però nel 99 devono rifare l'asta delle frequenze televisive per stabilire quali televisioni rispettano le norme e quali no per rinnovargli le concessioni perché per fare una televisione non è come fare un giornale un giornale fai un giornale poi lo metti in edicola la televisione utilizza un bene pubblico che è lettere che è limitato sono delle onde elettromagnetiche che sono limitate le possono usare in pochi chi sono quei pochi quelli che rispettano le regole e quindi rete 4 è fuori perde la concessione la vince Europa 7 di Francesco Di Stefano c'è al governo D'Alema che cosa fanno? tolgono le frequenze abusivamente occupate da rete 4 e le danno a Di Stefano che ha vinto la concessione? no fanno una proroga si ne die a rete 4 così Di Stefano ha la concessione ma non ha le frequenze per trasmettere rete 4 non ha più la concessione ma continua a trasmettere grazie a Berlusconi no grazie al governo D'Alema guardate che questi sono soldi non sono mica palle qui stiamo parlando di soldi di fatturati di roba che è in grado di far vivere o far morire le aziende di Berlusconi e quindi lui in politica e nella società italiana la Corte Costituzionale nel 2000 torna a sentenziare vi ricordate la sentenza del 94? rispettatela avete un anno di tempo per spegnere rete 4 o mandarla su satellite peccato che sia finita la legislatura torna Berlusconi e fa la legge salva rete 4 e poi la legge Gasparri che consacra e santifica l'esistenza abusiva di rete 4 e quella partita è chiusa l'ineleggibilità di Berlusconi è un atto di anti-berlusconismo? no è un'altra legge dello Stato la legge 361 del 1957 è una legge anti-berlusconiana ne dubito nel 57 Berlusconi era all'università studiava legge è incredibile ma studiava legge la fatta scelba destra democristiana i concessionari dello Stato non sono elegibili vuol dire che deve uscire dal Parlamento? sì oppure che deve vendere le televisioni perché le televisioni sono una concessione pubblica quando lui va al governo se la dà da solo la concessione pubblica non può essere gli attacchini dei manifesti dei comuni avendo l'appalto dal comune per appiccicare i manifesti del comune non possono diventare consiglieri comunali e nemmeno sindaci perché? perché se diventano comunali o sindaci si danno l'appalto da soli l'Italia è piena di gente che non ha potuto essere eletta consigliere comunale perché hanno l'appalto per appiccicare i bandi pubblici dei comuni Berlusconi ha maggior ragione direi attaccasse solo i manifesti uno potrebbe anche tollerare invece da vent'anni a questa parte si è votato sei volte nel 94 aveva la maggioranza si riunisce la giunta per le elezioni per stabilire chi è elegibile e chi non è elegibile di quelli che sono stati eletti si pone il problema gli uomini di Berlusconi votano per la sua elegibilità dicono che ineleggibile è confalonieri tanto non è stato né eletto manco era candidato il centro-sinistra che cosa fa? si associa tanto è minoranza votare contro pare brutto metti che si incazzi subito appena arrivato nel 96 si ripropone il problema stavolta la maggioranza è il centro-sinistra cosa fa il centro-sinistra? è ineleggibile confalonieri che non è stato eletto e non è nemmeno candidato vota contro uno solo si chiama Saraceni alle elezioni successive non lo ricandidano più il centro-sinistra nel 2001 torna Berlusconi si ripropone il problema come va a finire tutti d'accordo è elegibile nel 2006 si rivolta centro-sinistra alla maggioranza che cosa fanno? tutti d'accordo è elegibile adesso si è rivotato Flores D'Arcais raccoglie 250.000 firme fa una manifestazione i grillini dicono noi ci siamo per l'ineleggibilità se il PD c'è abbiamo la maggioranza cominciamo da qua se volete fare il governo del cambiamento rinunciate ai finanziamenti pubblici noi rinunciamo 42 milioni voi ne avete 45 rinunciate anche voi dichiariamo l'ineleggibile cominciamo a misurarci sulle cose blocchiamo il TAV che non serve a una mazza se non a buttare via 20 miliardi e a devastare una valle per fare una minchiata enciclopedica cominciamo a fare delle robe i soldi si prendono i soldi si prendono il TAV si fa utilissimo per il famoso corridoio 5 sapete che noi siamo collegati da Lisbona a Kiev con il famoso corridoio 5 e tutta un'alta velocità un giornalista ha fatto un libro recentemente corridoio 5 ha fatto proprio tutto il percorso in macchina naturalmente perché in macchina perché non ci sono nemmeno i binari della famosa alta velocità del corridoio 5 non c'è un chilometro di binario da Lisbona a Kiev quindi noi furbi dato che abbiamo un sacco di soldi da scialare partiamo con la Torino-Lione che tra l'altro è la tratta decisiva da Lisbona a Kiev la Torino-Lione è lo snodo fondamentale anche perché è una libidine pazzesca andare da Torino a Lione non so se siete mai stati a Lione Lione è una città di merda pazzesca uno arriva a Lione dice cazzo sono venuto a fare a Lione però noi si fa per arrivare 20 minuti prima a Lione non le persone perché non è fatto per le persone attenti nessuno lo sa è fatto solo per le merci una rapa quando ci sarà la Torino-Lione arriverà a Lione da Torino con un quarto d'ora d'anticipo e volete mettere la soddisfazione di avere portato una rapa da Torino a Lione con un quarto d'ora d'anticipo spendendo 20 miliardi e sventrando la valle di Susa con la militarizzazione perché è peggio dell'Afghanistan ormai la valle di Susa ecco la TAV si fa perché la costruiscono le cooperative rosse si fa il TAV e l'ineleggibilità beh gli è scappato Zanda capogruppo al Senato ha detto anche io sono d'accordo sono vent'anni che è ineleggibile io sono vent'anni che sono in Parlamento non mi sono mai accorto ma comunque l'ha scoperto anche lui una vocazione adulta ha detto è ineleggibile da sempre stavolta ci siamo stavolta ci siamo io avevo scritto un pezzo ho detto non ci credo che votano l'ineleggibilità di Berlusconi mi hanno detto che ero il solito grillino pagato da Casaleggio in effetti prendo anche un sacco di soldi lo voglio ringraziare no lo dico perché online ci sono alcuni dementi che scrivono che io sono un dipendente di Casaleggio una volta avevo anche i capelli un po' più lunghi perché proprio andavamo dallo stesso parrucchiere ho detto secondo me non lo votano secondo me è finto dice ah vergognati vuoi la cultura del sospetto avete visto come è andata a finire è intervenuto Violante e ha detto non si può dopo vent'anni che l'abbiamo dichiarato elegibile dichiararlo ineleggibile intanto rimarremo spiazzati non sapremo più ci sorprenderemmo di noi stessi faremo anche felici i nostri elettori che non sono abituati potrebbero avere anche dei contraccolpi cardiaci all'improvviso quindi meglio lasciare tutto com'era dato che abbiamo sbagliato per vent'anni sbagliamo anche il ventunesimo abbiamo fatto cinque cazzate facciamo la sesta già che ci sia fatto trenta facciamo trentuno gli errori fanno giurisprudenza così hanno stabilito scritto anche il Corriere uno dei costituzionalisti che sono stati nominati saggi adesso vengono tutti premiati quelli che dicono cazzate quindi vent'anni di cazzate diventano giurisprudenza quindi non si cambia niente hanno anche detto beh insomma adesso siamo al governo insieme non possiamo mica farlo incazzare se no poi fa cadere il governo e quindi l'ineleggibilità passa e tutti molti almeno continuano a dire ecco fanno un altro errore non è un errore è un modo di essere è un modo di vivere è un modo di intendere la politica non è un errore uno sbaglia una volta sbaglia due volte sbaglia tre volte ma quando sbaglia sempre ti verrà il dubbio che uno lo faccia apposta e non per sbadataggine o perché è distratto e allora domandiamocelo il perché di quella apposta domandiamoci il perché Berlusconi ha fatto 80 leggi vergogna in vent'anni nei dodici in cui ha governato e il centro-sinistra non ne ha cancellata una ma potevano cancellarne una così per sfizio tanto per darci il contentino non ne hanno cancellata nessuna mai mai e hanno avuto cinque anni la prima volta due anni la seconda mai sarà perché si sono dimenticati o perché piacciono anche a loro quelle leggi vergogna ma secondo voi la legge sul falso in bilancio è servita solo a Berlusconi o è servita anche a tutta la finanza che finanzia la sinistra in Italia ma secondo voi i bilanci truccati li ha solo Mediaset ma stiamo scherzando o parliamo sul serio ma secondo voi il Monte dei Paschi cos'è un fenomeno di sbadataggine collettivo i furbetti del quartierino chi erano degli isolati dei perdi giorno che si erano messi in testa all'improvviso di comprarsi la popolare di Lodi scusate l'Anton Veneta la più grande banca del nord-est la più grande banca di Roma che è appunto la BNL il Corriere della Sera così un giornalino a caso e poi erano già pronti per la Fiat per la scalata alla Fiat e secondo voi erano quattro amici al bar così quattro cazzari Fiorani era papa e ciccia con la famiglia Berlusconi e con la Lega oltre che col governatore Fazio con sorte non sto qui a spiegarvelo insomma e vai Gianni facci sognare questo è D'Alema abbiamo una banca questo è Fassino la scalata avveniva d'intesa perfetta con il vertice del partito mentre l'altra avveniva d'intesa perfetta con i vertici della Lega e del PDL e Ricucci li aveva entrambi alle spalle il centro-destra e il centro-sinistra per dare la scalata al Corriere della Sera non accadono per caso esattamente come non accade per caso la trattativa fra lo Stato e la mafia e la trattativa fra lo Stato e la mafia vi do una notizia non l'ha mica iniziata Berlusconi non c'era ancora in politica Berlusconi quando è iniziata la trattativa trattativa iniziata nel 92 il governo era Giuliano Amato premier i ministri della giustizia e dell'interno erano scotti e martelli che si sono messi di traverso e li hanno fatti fuori l'uno dopo l'altro e al posto ci hanno messo Mancino quello che non si ricorda neanche come si chiama quello che ha testimoniato che lui non ha incontrato Borsellino ma se l'avesse incontrato non l'avrebbe riconosciuto perché lui ministro dell'interno non sapeva neanche che faccia avesse il giudice più famoso d'Italia subito dopo la morte di Falcone che portava la bara di Falcone ai funerali e lui non sapeva che faccia avesse Borsellino e anche se l'avesse incontrato non l'avrebbe riconosciuto ed era il ministro dell'interno non dell'agricoltura quel governo lì l'ha iniziata mandando avanti i carabinieri che non sono Gianni e Pinotto sono il generale Mori e il capitano De Donno che hanno dovuto anni dopo ammettere di avere trattato con Ciancimino perché facesse da tramite con Riina e hanno parlato di trattativa loro davanti ai giudici non in groia di Matteo il fatto quotidiano Ciancimino loro quando Giovanni Brusca ha rivelato la trattativa e il papello sono corsi dai giudici a dire è vero ci siamo dimenticati di dirvelo mentre la mafia ammazzava Falcone e Borsellino noi trattavamo con quelli che avevano le mani grondanti di sangue mentre pubblicamente facevamo finta di combatterli perché volevamo sapere che cosa volevano in cambio della fine delle stragi e poi gliel'hanno detto che cosa volevano in cambio arrivò un papello non si sa arrivato a chi con le richieste di Riina richieste che Provenzano e Ciancimino quando le hanno viste hanno detto cavolo ma Riina è impazzito vuole farci ammazzare sono richieste troppo esose vuole addirittura l'abolizione del 41 bis la chiusura delle supercarceri di Pianose e Asinara l'abolizione dell'ergastolo l'abolizione dei pentiti ma impazzito uomini di poca fede non sapevano che tutte queste norme sarebbero state adottate dal Parlamento italiano con decisione bipartisan destra e sinistra in questi ultimi vent'anni Riina era un dilettante non era un estremista se chiedeva di più gli davano di più se chiedeva un monumento equestre gli facevano un monumento equestre bastava chiedere e era un pericoloso moderato altro che estremista e adesso che li processano basta guardare la reazione del formicaio impazzito della politica per rendersi conto che a Roma ci sono centinaia di persone nei posti chiave del potere che sanno tutto da sempre della trattativa e non hanno mai detto una parola e grazie ai loro silenzi omertosi hanno fatto e conservato carriere se non fosse per i mafiosi e per il figlio del mafioso che ci hanno parlato della trattativa gli uomini dello Stato non avrebbero mai detto una parola non sapremmo nulla se non avessero parlato Brusca il figlio di Ciancimino Spatuzza i mafiosi hanno violato le regole dell'omertà nello Stato non ci sono pentiti non c'è un solo pentito nello Stato Martelli si è ricordato vent'anni dopo che avevano avvertito Borsellino della trattativa Liliana Ferraro si è ricordata vent'anni dopo quando se l'è ricordato Martelli e Martelli se l'è ricordato perché se l'era ricordato Ciancimino e Violante se l'è ricordato vent'anni dopo che il generale Mori voleva che incontrasse segretamente Ciancimino e Mancino se l'è ricordato vent'anni dopo che aveva incontrato Borsellino ma non l'aveva riconosciuto perché non sapeva che faccia avesse e oggi il generale Mori si è difeso dicendo che c'è una congiura mediatica contro di lui perché ci sono cinque o sei giornalisti più Pancio Pardi e Don Gallo che lui non sa nemmeno che è morto e quindi rassicuriamo il generale Mori almeno uno dei congiurati non c'è più si tranquillizzi perché così si difendono questi infami citando gli unici giornalisti che in questi anni hanno raccontato i fatti citando le loro parole sulla trattativa e che cosa stanno cercando di fare di ricordare ai piani superiori che non possono rimanere loro con il cerino in mano leggetevi le telefonate leggetevi le telefonate fra il consigliere giuridico di Napolitano e il Mancino e non avete bisogno nemmeno di interrogarvi su che cosa c'era nelle quattro telefonate fra Napolitano e Mancino bastano quelle fra il suo consigliere e Mancino e Mancino che cosa dice al consigliere del Quirinale quando gli brucia il culo perché sta per essere indagato per falsa testimonianza perché lui lo sa che sta per essere indagato per falsa testimonianza voi avete mai temuto di essere indagati per falsa testimonianza no perché perché non avete mai fatto falsa testimonianza se uno fa falsa testimonianza poi comincia a sospettare che potrebbe essere indagato per falsa testimonianza e infatti lui lo prevedeva ha detto qua mi indagano per falsa testimonianza l'ho detta grossa stavolta se ne sono accorti hanno sgamato volevo andare a Caltanissetta invece sto a Palermo telefona al consigliere e dice qui se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa per lo Stato deve essere tutelato dallo Stato perché sottinteso perché altrimenti parla mica arrivano due carabinieri un bel mattino da Ciancimino a dire signor Ciancimino ci metterebbe mica in contatto con Totorriina che vediamo di farla finita con le stragi perché intanto Ciancimino li mette alla porta dicendo chi vi manda siamo venuti così per iniziativa personale ecco bravi andate a casa che io ho una reputazione mafiosa da difendere gente seria quella è gente seria pretende garanzie pretende che dietro a Ciancimino ci sia lo Stato e le garanzie arrivano scusate dietro ai carabinieri ci sia lo Stato altrimenti Ciancimino non fa nemmeno una telefonata perché perché poi ci finisce lui nei guai con i capi mafia se ha fatto da intermediare a una trattativa dove dall'altra parte ci sono due passanti questo sta avvenendo adesso il dramma di quelli che temono di restare col cerino in mano e chi chiamano per farsi difendere da quello Stato per conto del quale hanno trattato con la mafia chiamano il capo dello Stato che non è arrivato adesso è in politica dal 1953 ha fatto in tempo ad applaudire all'invasione sovietica dell'Ungheria che schiacciava la repressione di Budapest e che nel 93 era capo presidente della Camera e guarda caso il presidente del Senato era Giovanni Spadolini e guarda caso i mafiosi quando vanno a fare le attentati a Roma scelgono proprio la basilica di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano e poi ha fatto il ministro dell'interno e come ministro dell'interno fu il primo a sollecitare una legge contro i pentiti di mafia dicendo che i pentiti di mafia sono troppi sapevamo che erano troppi i mafiosi il ministro dell'interno Giorgio Napolitano disse che erano troppi i mafiosi pentiti non quelli irriducibili non rina buscetta troppi buscetta meglio sfoltire e fu accontentato fu fatta anche quella legge che guarda caso era nella lista del papello per questo l'altra sera quando quel fringuellone di Veltroni è venuto a servizio pubblico e ha detto beh anche Travaglio sarà d'accordo sul fatto che certo la trattativa c'è stata ci sono delle misteriose entità che hanno fatto la trattativa c'erano già a portella della ginestra sono delle entità bicentenarie tricentenarie ma sconosciute l'importante è che siano sconosciute i colpevoli sono sempre sconosciuti appena ne prendono uno con la faccia il nome e il cognome dice no 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 quello non è infatti ha detto Travaglio sarà d'accordo con me Napolitano ha sempre combattuto la mafia Mancino ha sempre combattuto la mafia Ciampi ha sempre combattuto la mafia Generale Mori ha sempre combattuto la mafia tant'è che a un certo punto mentre stava per elencarmi degli altri ho detto guarda parla per te perché io non sono affatto d'accordo con te la mafia l'hanno combattuta i magistrati e le forze dell'ordine la politica non ha fatto altro che mettergli i bastoni fra le ruote altrimenti per quale motivo Mancino chiama Napolitano ma soprattutto per quale motivo Napolitano invece di buttargli giù il telefono risponde a Mancino e si attiva e molesta con uno stalking prolungato Piero Grasso che se ne lava pilatescamente le mani e poi molesta il procuratore generale della Cassazione perché convochi Grasso e perché faccia in modo che Grasso tolga l'inchiesta a Palermo o tolga i politici dall'inchiesta di Palermo perché secondo voi lo sventurato come la monaca di Monza rispose a Egidio evidentemente perché ci sono delle proposte che non si possono rifiutare e ritorniamo all'origine del nostro discorso voi pensate davvero che un sistema così consolidato così incrostato così ramificato così compenetrato potrebbe mai accettare così di buon grado il governo del cambiamento ma quando mai ma in quale film ma c'è gente che è pronta a sparare e infatti non appena se ne cominciava a parlare di quel governo del cambiamento arrivò un pizzino alla procura di Palermo in cui si diceva che la parola d'ordine di Cosa Nostra era impedire che vadano al governo i comici e i froci il governo del cambiamento è il governo dei comici e dei froci è quella che è stata chiamata la soluzione Sicilia anche se poi è più un blef che altro con crocetta è l'ipotesi che potessero entrare nello stesso governo i rappresentanti del centro-sinistra compreso Vendola quindi senza Berlusconi e senza tutta la banda Monti Casini eccetera e i 5 Stelle ma non è la parola d'ordine soltanto della mafia quella di evitare il governo dei comici e dei froci è la parola d'ordine del sistema che infatti si è immediatamente richiuso perfettamente richiuso io devo concludere quindi vi dico soltanto più questo non perdete la memoria provate a ricordarvi almeno gli ultimi passaggi proprio cronologici degli ultimi due anni Berlusconi era morto e sepolto grazie a Fini nell'estate del 2010 quando i Finiani fanno gruppo a parte e preparano la mozione di sfiducia al governo Berlusconi nell'ottobre del 2010 il governo Berlusconi è finito Berlusconi non ha più la maggioranza alla Camera chi interviene a salvarlo Napolitano dicendo che non si vota la mozione di sfiducia fino a quando non si è votata la legge finanziaria che è prevista per un mese dopo Berlusconi ha un mese di tempo per comprarsi i deputati necessari a colmare il vuoto creato dai Finiani e quando si vota la mozione di sfiducia è perfetto ottiene la maggioranza i Finiani è come se non fossero usciti con il governo delle puttane come giustamente ha chiamato Battiato le troie in Parlamento sono quelli che si vendono il governo delle troie maschi e femmine dura un altro anno dura un altro anno con la complicità delle più alte cariche dello Stato che non si accorgono che c'è un governo comprato con una maggioranza comprata dopodiché ci vuole l'Europa per farlo fuori l'Europa fa sapere che noi siamo rovinati se ci teniamo quello lì anche per un altro anno fino a fine legislatura Berlusconi c'è il fuggi fuggi persino quelli che si era comprato se ne vanno tenta di ricomprarli non accettano non riusciva più a comprarsi nemmeno i venduti era finito votano il documento finanziario di fine anno prende 308 voti su un quorum di 316 non ha più la maggioranza non c'è più nessuno che si faccia comprare è la fine per lui se non riesce nemmeno a comprarli lui sempre comprato tutti che cosa succede stavolta basta andare a votare di lì a due mesi a gennaio del 2011 e lui è finito lo spread oltre i 300 i consensi sotto il 10% si va a votare lo asfaltiamo chi interviene a salvarlo? Napolitano ma mi dispiace Napolitano è uno se il PD avesse detto noi non accettiamo di entrare in nessun governo si va alle elezioni anticipate anche se Napolitano piange e invece il PD accetta di entrare al governo con Berlusconi in posizione dominante perché aveva la maggioranza relativa del Parlamento mettendo su monti e facendo quella bella politica che voi sapete la politica che nemmeno Berlusconi aveva avuto il coraggio di fare tagli selvaggi ai pensionati 350.000 esodati nessun taglio alle spese militari nessun taglio alla casta regali alle banche e altre porcate un anno di tempo a Berlusconi per far dimenticare agli italiani le porcherie che aveva combinato negli ultimi quattro e arriviamo alle elezioni che per peggiorare la situazione è intervenuto pure Monti per far perdere un po' di voti al centro-destra e un po' di voti al centro-sinistra in modo di arrivare al pareggio era tutto preordinato l'unica cosa che non avevano calcolato nemmeno Grillo l'aveva calcolata è che Cinque Stelle hanno preso più voti di quelli che si pensava ma il fatto che non dovesse vincere nessuno era stabilito tant'è che nemmeno Sottomonti hanno cambiato la legge elettorale perché? perché garantisce l'ingovernabilità e quindi l'inciucio perpetuo e chi non l'ha voluta cambiare è perché voleva questo approdo Napolitano ma anche i due maggiori partiti solo che ne hanno persi troppi di voti e pensavano di dopo le elezioni dare un calcio a vendola prendere Monti fare un altro inciucio con un pezzo del centro-destra che si sarebbe staccato da Berlusconi che loro davano per morto e fare un bel galleggiante democristiano gli è andata male perché Berlusconi non ha perso tanto quanto si aspettavano perché? perché loro hanno perso troppo rispetto a quello che avevano ha perso dieci punti il PD ha perso dieci punti nei sondaggi nell'ultimo mese perché? perché quello non faceva la campagna elettorale smacchiamo il giaguaro facciamo lì mediamo le cose il coso non finiva le frasi quell'altro restituiva lì mandava i moduli a casa le vecchiette ne inventava una al giorno lui coso lì vediamo un po' la cosa facciamo un po' di robe lì il giaguaro finite le elezioni ovviamente dovevano trovarsi l'alibi e l'alibi qual era? far finta di volere un governo del cambiamento dopo che avevano rifiutato l'alleanza con Di Pietro e con Ingroia apposta perché? perché se avessero incamerato Di Pietro e Ingroia avrebbero preso tre o quattro punti in più con tutto l'effetto moltiplicatore in Parlamento anche al Senato ma Monti e Casini e i berlusconiani dissidenti non si sarebbero mai alleati con loro e loro quello avevano in mente per questo non hanno voluto Di Pietro e Ingroia e adesso si ritrovano al governo con Berlusconi per non essersi alleati con Di Pietro e Ingroia guardate che sono i paradossi della storia hanno fatto un po' di Manfri il governo del cambiamento che cos'era? il governo PD 5 Stelle non è vero non già boccate non è vero non è mai stata fatta questa proposta sono andati dai grillini perché per carità in quei giorni non capivano niente perché erano appena entrati in Parlamento ancora non hanno imparato dove sono le stanze delle commissioni del resto non deve essere facile aggirarsi in quei meandri popolati da quei marpioni comunque nei primi giorni certamente non hanno dato il meglio di sé e sono andati con un programma già scritto gli otto punti a chiedergli qualche voto per far partire il governo monocolore PD Vendola che aveva già i ministri fissati e questi che avevano fatto la campagna elettorale contro il centrodestra e contro il centrosinistra avrebbero dovuto dare a scatola chiusa il voto a un governo dove loro non potevano mettere il becco né nel programma né nei ministri ma dico ma è la proposta che uno non può rifiutare o è l'unica proposta che devi rifiutare gli hanno fatto l'unica proposta che non potevano accettare pena essere linciati dai loro elettori rileggetevi quegli otto punti non c'era niente sul Tav c'erano dei farfugliamenti sul finanziamento dei partiti non c'era nemmeno la parola abolizione ma soprattutto c'era la parola web e wifi spalmata un po' ogni tanto scrivevano virgola wifi virgola dice così quelli vedono wifi e ci cascano e intanto mentre dicevano di volere il governo del cambiamento facevano scouting scouting vuol dire scilipoti vuol dire comprarsi singole persone elette con uno schieramento per portarle dall'altra parte solo che quando lo fa scilipoti è compravendita dei voti e quando lo fanno gli uomini di Bersani con gli uomini di Grillo si chiama scouting certo non è un bel modo di cominciare il dialogo cercare di comprare qualcuno per rendere inutili tutti gli altri quindi la proposta fu rifiutata stupidi i 5 stelle ad andare da Napolitano senza fare i nomi del loro premier li avevano Zagrebelsky Setti Sero Dota non li hanno fatti sapete perché oltre che perché sono dei stupidi ingenui perché ogni volta che dicevano noi vogliamo un premier fuori dai partiti perché un governo si può fare ma non lo può presiedere il leader di uno partito che ha perso le elezioni mettiamo uno che non è né dei nostri né dei loro Napolitano li bloccava e diceva non voglio sentire faceva perché perché gli diceva il governo deve essere presieduto da un politico le consultazioni di Napolitano non sono le consultazioni di un presidente che chiama i partiti e gli chiede che cosa volete e prende nota cosa che deve fare un presidente della Repubblica nelle consultazioni erano i partiti che andavano da Napolitano a chiedergli che cosa lui voleva fare e che loro facessero lui aveva già perfettamente in testa che cosa doveva succedere dovevano naufragare tutte le alternative possibili affinché si arrivasse a quello che era programmato fin dall'inizio il governo dell'inciucio che riproducesse esattamente la formula Monti dopodiché naturalmente hanno candidato Marini che si sapeva benissimo che non sarebbe passato hanno candidato Prodi Prodi avrebbe mai dato l'incarico a un governo con Berlusconi dentro mai Berlusconi lo sapeva e infatti chi l'ha impallinato Prodi il PD dopodiché hanno detto perché Grillo non ha votato Prodi e perché non gliel'hai chiesto prova a proporgli Prodi presidente della Repubblica e Rodotà presidente del Consiglio e vediamo quando mai c'è stata questa proposta è Grillo che ha chiesto al PD di votare Rodotà il PD non ha mai chiesto i voti a Prodi il PD non si è mai nemmeno riunito per decidere perché Rodotà non era un buon presidente della Repubblica una volta naufragato Prodi perché era meglio Napolitano perché perché Napolitano significava governo con Berlusconi Rodotà o Prodi significava governo senza Berlusconi oppure governo di pochi mesi per fare legge elettorale e poi lasciar decidere agli italiani da chi vogliono essere governati dopodiché Napolitano che ci aveva detto in tutte le salse come Violetto prima che mai e poi mai si sarebbe ricandidato appena sono andati a chiedergli ma eventualmente tu mica ci staresti subito ha firmato all'istante due settimane prima aveva già nominato i saggi per scrivere il programma del nuovo governo ma voi avete mai visto un presidente della repubblica che sapendo che una settimana dopo va via nomina dei saggi per poter lasciare sulla scrivania del suo successore il programma del nuovo governo che lui non sa nemmeno quale sarà perché lo dovrà nominare il suo successore voi capite che era tutto preordinato fin dall'inizio o vogliamo ancora credere che è stato tutto un rotolare di eventi casuali purtroppo il gatto pardo che vent'anni fa prese il potere con Berlusconi e questo ceto dirigente del centro-sinistra per impedire il possibile cambiamento che avrebbe potuto scaturire dalla ventata di libertà che era uscita dall'inchiesta Mani Pulite e dalla primavera di Palermo è lo stesso gatto pardo che è stato sempre più malconcio e spelacchiato e sta tentando di mettere un tampone a quest'altro terremoto che è successo alle ultime elezioni ed è un terremoto che non è rappresentato solo da Grillo è rappresentato dal fatto che il PD ormai ha una base che è esattamente il contrario del vertice ha una base che si chiama Occupy PD ha dei giovani che non ne possono più di questi giochini che ormai sono talmente scoperti di gente che era andata a votare alle primarie pensando che veramente avrebbe potuto scegliere il leader del proprio partito quindi è un terremoto che non è soltanto 5 Stelle 5 Stelle è una parte del terremoto è un terremoto che c'era addirittura un po' nel centro-destra quando qualcuno voleva addirittura le primarie nel centro-destra il gatto pardo è riuscito a stoppare tutto questo con questa boiata pazzesca che è il governo Letta il governo del nipote di suo zio lo dico perché Grillo l'ha copiata da me non viceversa il governo del nipote di suo zio che è lì solo perché è il nipote di suo zio per nessun altro motivo persino Renzi non andava bene a Berlusconi pensate come sono messi questi si sentono minacciati persino da Renzi Letta è una specie di pianta grassa dove lo metti sta no? e quindi va benissimo è più vecchio di suo zio anche se ha la metà degli anni è molto più anziano di Gianni Letta è molto più frizzante Gianni di Enrico se voi li vedete l'hanno messo lì è un sughero è un galleggiante è soprattutto un tappo è un tappo su un pentolone che però ma questo dipende soltanto da noi può detonare da un momento all'altro a patto però che la smettiamo di farci prendere in giro e che ci rammentiamo quello che è successo in questi ultimi vent'anni grazie